quindi ripetiamo Ehring Gallenger, Victorita, Bognadeci e Sonia Laquintana, ragazzi subito in zona premiazione now invito di serie Morizzone Ringallenger, Victorita, Bognadeci Sonia Laquintana diciottesima serie alla partenza in corsia uno Gabriele Bigiani circolano l'unico Wisp due Lorenzo Guidolin centronuoto Rosà all'attretto Maso Stefani Roccatenuoto, corsia quattro Norman Zamana Motoclave Brebbia cinque Simone Paolone Piavenuoto alla sei Matteo Bozzo Piavenuoto sette Cristian Brugniera Parcanuoto alla otto Elia Zanella la città Sbord Vicenza Grazie a tutti.